Caffè 24, Radio Genius e Fiasp presentano Podismo Informato. Ciao amici, eccoci ancora qua in diretta da Caffè 24 e per i nostri radioascoltatori Radio Genius. Siamo qui con la nostra consueto appuntamento con Fiasp Podismo Informato. Come sempre, come ogni settimana, vi racconteremo un po' dell'edizione passata di domenica scorsa e dei nostri appuntamenti della settimana, non solo del fine settimana, ma proprio di tutta la settimana, di tutta la rassegna, tra virgolette, stampa della corsa. Allora, iniziamo subito parlando un po' dei nostri consueti appuntamenti settimanali che ci vedono sul territorio e quindi a contatto con i nostri amici podisti. Allora, partiamo subito con mercoledì. Mercoledì è Paleo Run, l'appuntamento itinerante oggi, scusate, mercoledì 10 è a Selvazzano. I percorsi sono sempre i consueti, quindi abbiamo un 8 chilometri e 5 chilometri. Vi ricordo che l'appuntamento per questa tappa da volantino mi ricorda il terzo tempo da passare in compagnia. Mentre per quanto riguarda gli altri appuntamenti di nostri amici, degli allenamenti settimanali, abbiamo al giovedì il classico ormai per chi abita a Padova e per chi la conosce, perché sicuramente è un appuntamento ormai noto a tutti i nostri amici podisti, c'è la Corri per Padova che parte come partenza dalla parrocchia di Selboro. I chilometri sono 8 e 4 per i camminatori, mentre sempre al giovedì abbiamo i nostri amici di Cavalli Marini che ci fanno fare un bel giro verso la diga con cammina e Corri perciosa e marina. Chiedo scusa ma oggi sono un po' raffreddato. Al martedì abbiamo il consueto appuntamento con il training di Piove di Sacco. La partenza è al Duomo, sotto proprio il campanino di Piove di Sacco, alle ore 8. I percorsi sono 2, uno per i camminatori di 6 km, mentre per i corridori 8. Attenzione che nei prossimi settimane ci sarà anche, visto il cambio di orari, quindi le giornate si allungano, ci sarà anche l'extra training, cioè un allenamento un po' più lungo, quindi potremmo godere appunto del sole e con un percorso più lungo e più paesaggistico. Quindi vi invito a chi conosce l'allenamento a portare un po' di pazienza e comunque a seguirci. Mentre per quanto riguarda la nostra rassegna marce della settimana, noi cominciamo con una nostra nel Rodigino, a Fenil del Turco, con la settima passeggiata del Primavera. I chilometri sono 6, 12 e 17. Anche in questo caso c'è il mini trail, quindi i bambini fino a 12 anni e la family di 2 km circa. La partenza è alle 8, la partenza è libera dalle 8 alle 9, mentre per quanto riguarda il mini trail la partenza è alle 9 e mezza. Questa è una formula che, come noterete, sta andando sempre di più nelle manifestazioni podistiche. Questo ci permette anche di avvicinare un po' le famiglie a questa disciplina, a questo momento di incontro, quindi la ritroverete sempre più spesso e sicuramente è un punto a favore per gli organizzatori e anche un bel momento di aggregazione per la comunità. Allora, ricapitolando, 7 maggio, sì, settima passeggiata di Primavera, il quale è domenica 14 maggio, i percorsi sono 6, 12, 17 e il mini. Mentre per quanto riguarda sempre il nostro, in provincia di Padova, abbiamo i quattro passi con il cuore, domenica 14 maggio, però attenzione, questa è al pomeriggio, la partenza è alle ore 16, quindi alle 4 di pomeriggio. Il percorso è un percorso corto, contenuto, è una passeggiata, è di 6 km e la partenza è dal Parco Bapi. E' una manifestazione particolare perché è in favore di Amatrice, quindi il ricavato va devoluto ad Amatrice, che è stata, come sappiamo, già un'emergenza a terremoto, quindi vi invitiamo a partecipare maggiormente per devolvere sempre una parte cospicua del ricavato per sostenere Amatrice. Di particolare appunto c'è che il terminato della corsa si può cenare con cena sotto le stelle alle ore 19, quindi anche qua avete un menu particolare appunto per questo evento. Quindi quattro passi con il cuore, Amestrino, Parco Bapi, domenica 14 maggio, ricordiamo, la partenza non è una marcia matutina ma alle 16. Mentre per quanto riguarda la nostra segna stampa, diciamo, fuori provincia, per quanto ci riguarda, è Dolo. Una manifestazione che ormai ha raggiunto la 33esima edizione, marcia dei Storti lungo la rivera del Brenta. Marcia a me è cara, perché insomma sono vicino ai nostri amici di Dolo, i amici di Dolo e i pudisti dolesi. I percorsi è 7, 13, 18. La partenza è molto suggestiva perché è appunto sulla piazza vicino al mulino, quindi è a pelo d'acqua, molto carina, è molto bello l'ambientazione. La partenza è libera, come di consueto, con le nostre manifestazioni, dalle 8 alle 9. I percorsi sono 7, 13 e 18. Invitiamo i nostri amici a partecipare perché è una marcia che valorizza sicuramente anche le ville che ci sono nel circondario, quindi è molto molto bella da vedere. Mentre per quanto riguarda il Vicenza e Verona, abbiamo Polisportiva Grumolo Pedemonte, Caminata del San Biagio, la trentesima edizione. I percorsi sono 4, 7 e 11, 4, 7 e 11 e 20 circa. Quindi è ben quattro percorsi a disposizione per chi vuole cimentarsi. La partenza è dalle ore 7 e 30, quindi i nostri amici qua sono abituati un po' nel Vicentino, sono più, si svegliono prima rispetto a noi e la partenza è libera dalle 7 e 30 alle 9. Mentre per quanto riguarda sempre nel Vicentino abbiamo una manifestazione, quindi notare questa particolarità e peculiarità che è quasi una norma ormai trovare all'interno di un territorio, di una provincia, più di una manifestazione senza nessun problema. Come abbiamo pensato e detto, nella settimana scorsa, anche a noi capita spesso, cerchiamo appunto di restare, di allontanarsi nei poli della provincia per permettere a tutti di avere un flusso regolare di podisti. Allora, domenica è sempre 14, la ventesima marcia di Campagnola, gruppo podistico Corri 90. I percorsi sono 9, 15, 24 e un percorso più piccolo di 4 chilometri. Non ci sono informazioni sul volantino, però sicuramente anche qui, essendo nel territorio vicentino, la partenza è un po' anticipata, quindi potrete partire alle 7 e mezza fino alle 9. Mentre per quanto riguarda la provincia di Verona, se non ricordo male, avevamo anche qui due manifestazioni e ecco, domenica, Meeting del Custoza, 41esima marcia arena. I percorsi sono 6, 11 e 17 chilometri. La partenza è da Somma Campagna, Verona, e più precisamente a Villa Venier. Qua non abbiamo, anche qui sul volantino, non vedo un orario di partenza, ma possiamo dirvi che c'è l'undicesima corsa, i campioni del domani. Anche qui la forma, come avevo accennato prima, è riservata un po' ai bambini, quindi è una visione della mini run, appunto riservata ai bambini fino a 0 ai 13 anni. Mentre per quanto riguarda la nostra, se non ricordo male, vi recupero un'altra marcia che... Eccola qua, domenico 14 maggio, sempre nel Veronese, Colognola e Colli, partenza dalle ore 8 e 30 alle 9 e 30, i percorsi sono 15, 11 e 17 chilometri. Noi la nostra segna marcia l'abbiamo terminata, però vi diamo qualche chicca e qualche dato dell'edizione passata. Allora, domenica sapete che ci sono due manifestazioni che hanno coinvolto il territorio padovano, un'andata padovana con 1200 partecipazioni, della nostra amica Federica, quindi ha raggiunto ampiamente l'obiettivo che si era prefissata. Mentre per quanto riguarda il piovese, il piove di sacco, c'era la Cori che piove che ha raggiunto 2700 partecipanti. Come avete sentito, numeri sicuramente interessanti e che appunto fanno vedere che il podismo è un movimento vivo e soprattutto quando è radicalizzato nel territorio sa ben gestire questi numeri e sa attirare molte persone. Ma un altro dato molto interessante è la Pink Run che si è svolta nel pomeriggio che ha visto coinvolgere, insomma, c'erano come numero di persone interessate 6500 partecipanti, tutte in rosa. Abbiamo un'intervista da proporvi, prego di farcela vedere il contributo. Allora, come vedete, ottima! Ma qui adesso andiamo a beccare delle infiltrate! Eccole qua! Buonasera! Ciao! Allora, c'è qualcuno che vedo in versione Pinkamica. Benissimo. Allora, Alessandra, questa sera cosa combiniamo di buono? Questa sera facciamo questa passeggiata in compagnia con tante amiche, tutte rosa. 5-13! No, 3-13 al lago di Pedro! Ti fai registrare! Perché ieri ho fatto lento. Cos'è che hai fatto ieri? Ho fatto l'edro trail, guarda trail. Eh beh, d'altra parte abbiamo... E oggi sgambattina qua anche per una buona causa. Ma d'altra parte questa sera poi si portano anche le signorine, si comincia a abituarli a fare, poi vabbè, lasciamo perdere che loro sono tra quelli che fanno l'attività del mini trail, no? Il mini trail sempre, appuntamento fisso del mini trail alla domenica, pink run tutti gli anni, mini pink run. E poi non dobbiamo dimenticare che ne parleremo prossimamente a Caffè TV 24 con un fiasco podismo informato, l'urban trail di maggio che è a Porto. E' il 21 di maggio da Perseo. Quindi ne parleremo poi, ti telefoneremo, o verrai in studio? Quale di ieri? Ok. Bene, buona passeggiata. Ciao Alessandra! Tantissime, tantissime! Oh ecco, ciao Elisa, guardate un po' chi c'è questa sera. Allora, carissima, perché non ti becchiamo mai? Perché siamo troppo distratti? Siete tante, siete troppe! Allora, Elisa Venturini, allora, cosa ci dici? Che solo per partire ci abbiamo impiegato 10 minuti, questo per dirvi quanta gente c'è in questa manifestazione che è bellissima, nonostante il tempo. Ma no, il tempo è bellissimo, non puoi dire così, non piove, questo è il primo stato positivo. Speriamo. Allora, ti ho 8 chilometri e mezzo? Sì, sono anche e mezzo, avevo capito che erano 8, mamma mia! Mi sa, puoi già accorciare, no? Dai, cosa stai preparando Elisa? In che senso? Nel senso che hai preparato una marcia nuova, una distanza. Sai che io questa mattina mi sono già fatta i 7 chilometri a piove di sacco, che c'era la corsa organizzata alla Fiasp, e oggi pomeriggio vengo qua, pensa un po'. Ecco, tanto per dire, qualcuno dice che di solito quando ci sono più manifestazioni nella giornata si perde, no? Correre fa bene, correre fa bene, scherzi. Bene, ti lasciamo continuare e noi cerchiamo di fare nuovamente, risalire la china. Grazie, ma non sapevo che ci sia anche il presentatore, intervistatore. In via del tutto occasione, alle cosa vuoi, ci delettiamo a fargli tutto, dobbiamo provarle tutte, no? Ciao Elisa. Ciao, ciao, grazie. Ecco, abbiamo appena visto le immagini stupende del colpo d'occhio da Prato da Valle, vi ringrazio e ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti, ciao, buona corsa. Caffè24, Radiogenius e Fiasp vi hanno presentato Podismo Informato. Caffè24, Radiogenius e Fiasp vi hanno presentato Podismo Informato.